Ciao a tutti, sono Simona Bellone, Presidente dell'Associazione Culturale Carti di Milleesimo. Per il Festival Carti delle Arti 2016 ho scelto alcune opere, partecipanti al concorso letterario, una per autore. Ascoltatelo attentamente e votate. E chi vinca il migliore. Buon ascolto. Poesia di Attilio Rossi di Carmagnola in provincia di Torino. Il volo libero dei sogni. Erano leggeri come le piume di quelle rondini in volo, avvolti dal vociare dei bambini nelle giornate di sole. Si posavano senza far rumore, figli del silenzio dell'aria, come mille corriandoli colorati che trovano il luogo ideale. E continuavano lievi a brillare, illuminati dalla luce libera, delle gemme della speranza che s'aprivano al domani. Calavano sui boccioli dei fiori, quasi a rilasciar carezza e respirare gocce di profumo per assaporarne i colori. E camminavano senza posa, sospinti dai mulini a vento. E nel loro gioioso peregrinare scoprivano orizzonti felici. Danzavano su sentieri innevati, sopra le baite di pietra, sulle sabbie di spiagge infinite, là dove scendeva la notte. I sogni sono il gusto della vita e come il sole riscaldano, poi rivivono vicino alle nuvole, ma non tramontano mai. Oggi sceglierai per me.